Per favore ragazzi smettetela di dire che siete maturi, infatti siete attratti da persone più grandi perché magari state semplicemente cercando di sostituire una figura mancante nella vostra vita quindi è tutto meno che maturità e non sto dicendo che significa necessariamente questo sto dicendo che la psicologia dei no-artri dove A vuol dire immancabilmente B un po' come quelli che leggono un libro sul linguaggio del corpo e poi non ti puoi più toccare il naso perché altrimenti stai mentendo che è tutto meno che vero beh è un po' quello, è un po' iper-semplificare e attenzione, io sono il primo che cerca di semplificare gli argomenti ma senza mai banalizzarli le cose sono complesse allo stesso modo essere attratti da, che so, una persona più piccola e ovviamente rimanendo nella legalità non vuol dire essere dei babbei immaturi perché magari hai trovato una persona straordinaria che semplicemente ha qualche anno o meno di te cioè cerchiamo di ampliare un po' i nostri orizzonti e comprendere che le dinamiche relazionali sono molto complesse e fare sempre A uguale B, nella maggior parte dei casi, ci porta fuori strada hai già fatto un giro sul mio sito lucaromito.it ci trovi di tutto, di tutto nel senso webinar, corsi dal vivo, percorsi i webinar ad esempio sono dei corsi dal vivo che ho registrato e ho messo online a disposizione in maniera tale da poterli guardare anche 10 minuti al giorno li trovi su lucaromito.it super goloso ciao